Oggi mi trovo qui, nella sede degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, dove siamo già operativi, per parlarvi del progetto Giovanni Paesiello Festival 2017, un progetto ambizioso che necessita dell'aiuto di tutti. Abbiamo deciso infatti, in questa quindicesima edizione, di offrirvi per la prima volta non una ma ben due opere liriche del compositore Tarantino, Filo Conduttore, Paesiello e La Russia, e per celebrare questo connubio rappresenteremo la serva padrona e il barbiere di Siviglia, quest'ultima in collaborazione con l'Associazione Musicale Voce all'Opera di Milano. Ma per farlo abbiamo bisogno della vostra generosità, delle vostre donazioni e del vostro sostegno. Il vostro aiuto economico infatti, assieme a quello dei nostri partner, sarà investito in toto in queste due produzioni liriche, che saranno affiancate da una serie collaterali ed eventi per tutto il mese di settembre. Vogliamo che con il progetto Giovanni Paesiello Festival 2017, la musica del nostro compositore ritrovi lo stesso lustro dato da Lazzarina Caterina. E per farlo abbiamo bisogno di te. Gli amici della musica di Taranto promuovono da circa 15 anni il Giovanni Paesiello Festival, fiduciosi che esso costituisca un prezioso volano per il turismo culturale locale, ponendosi come un'occasione di crescita per la cultura di chi Taranto la abita o la visita.